Ciao amici di MTV Mag, ben trovati anche questa settimana con un nuovo Video Tech Corner. Quest'oggi è tempo di parlare di e-bikes ed in particolare ci occuperemo della questione della batteria estraibile. È meglio una bici con batteria estraibile o è meglio una batteria fissa, quindi un telario chiuso, una batteria che per poter essere estratta ha bisogno di operazioni più macchinose tipo togliere il motore. Prima di entrare in vivo nell'argomento però, come sempre, voglio ricordarvi che se vi piace i nostri video potete dare il vostro supporto. Come? Sottoscrivendo un piccolo abbonamento che con neanche 2 euro al mese permette di dare un contributo utile alla realizzazione di questo video. Da un punto di vista storico, le prime bike nascevano con delle batterie montate all'esterno del telaio. Parlavamo di telare tradizionali con la classica forma di una mountain bike con la batteria montata praticamente al posto del porta-porraccia. Viene da sé che queste batterie, come ha concepito il sistema, erano estremamente facili a loro rimozione. Anzi, poteva essere una soluzione ottima per esempio per chi voleva caricarsi la batteria in casa o chi magari voleva utilizzare più batterie, finita una si poteva sostituire con l'altra. Il design delle bici poi progressivamente è cambiato e si è passati ad una maggior integrazione nei telai e le batterie d'esterno sono diventate interne. Da un punto di vista tecnico si è cercato di mantenere la possibilità di rimuovere la batteria senza particolari attrezzi con meccanismi, con serrature, chiavi, brugole, ogni produttore ha inventato la sua soluzione rendendo comunque possibile la rimozione della batteria per la sua carica esterna. Oggi invece, oggi parliamo di 2023, il trend sembra cambiare. Sono diversi i produttori che stanno proponendo o hanno appena proposto biciclette, nuovi modelli con la batteria interna ma non estraibile. Ma perché di questa scelta? Il concetto di batteria estraibile è stato un pochettino superato. Le motivazioni sono essenzialmente tecniche e cercherò di capire nel riguardo. Per questo ci siamo spostati qui nella parte espositiva del negozio e sono andato qui davanti alla nuova Orbea Rise, il nuovo modello Carbonio 2023, per cercare di capire quali siano i vantaggi del non avere la batteria estraibile. Allora, il principio è semplice. Per avere una batteria che si può togliere dal telaio, bene, il telaio deve essere bucato, può essere bucato sotto, può essere bucato di fianco, può essere bucato sopra, difficilmente. Il fatto che il telaio sia bucato da un punto di vista strutturale è un grosso problema. Perché? Una sezione completamente chiusa resiste molto meglio alle torsioni rispetto ad una sezione con una forma AC. La resistenza alle torsioni nella parte bassa del down tube della bici è molto importante, perché è proprio qui che la torsione del telaio viene gestita appunto dalla sua struttura. Questo tubo, quando la ruota davanti tende a torcere nello scassato, è il diretto responsabile della resistenza alla torsione del telaio, perché poi qua abbiamo l'infulcro del cargo posteriore, quindi è proprio questo tubo fortemente sollecitato meccanicamente. Il fatto di utilizzare una sezione chiusa permette di implementare notevolmente la resistenza alla torsione, senza bisogno di aggiungere eccessive quantità di materiali. E' quindi possibile da un punto di vista progettuale, ma questo ragazzi ce lo insegna la scienza delle costruzioni, in una sezione chiusa ottenere una maggior rigidità sia torsionale che anche a flessione, utilizzando una sezione più fine, quindi meno materiale. Perché? E' più efficiente, perché essendo chiusa le forze lavorano in maniera circolare, dette in maniera molto semplice, e quindi l'anello chiuso è molto più resistente di una qualsiasi sezione aperta. Il fatto di utilizzare un tubo chiuso, quindi, comporta quale vantaggio? Beh, maggior rigidità e minor peso. Il minor peso non è un fattore secondario, perché tutti abbiamo detto, eh va bene, qualche grammo in più sulle bike, chi se ne frega. Però i produttori ci stanno spiegando che con la sezione chiusa riescono a risparmiare fino a 8-900 grammi sul telaio, per esempio i telai carbon, e questo significa un enorme risparmio in termini di peso sulla bici completa, perché in un periodo in cui oggi il trend sulle bike è di andare su bici più leggere, perché è comprovato che più la bici leggera, meglio si guida, più va forte in discesa, meno consuma batteria, bene, in un periodo in cui il peso sulle bike è diventato un fattore chiave nella scelta, andare a risparmiare tutti questi grammi sul telaio, beh, è oggettivamente un beneficio non da poco. Non tutte le aziende però vedono, hanno la stessa filosofia, ad esempio Transition nella nuova Repeater, che è un altro esempio che ho trovato qui girando in negozio, permette l'estrazione della batteria, rendendo comunque un buon risultato in termini di peso e di rigidità, perché la Repeater è oggettivamente una bici piuttosto leggera, parliamo di 22 kg e mezzo, ma anche meno andando un attimino a limare sul peso. Come funziona in questo caso? Beh, qui il risparmio di peso si è ottenuto ottimizzando al massimo il fatto di poter restare la batteria, se da un punto di vista strutturale è chiaro che è stato necessario avere più materiale, però si è andato a risparmiare su cosa? Su quelli che sono gli elementi inutili, in primis la serratura, che in questo caso è stata sostituita da un gancettino che si aziona con una bugola da 4 mm, si inserisce nel buco e girandola in maniera piuttosto semplice permette al rider di estrarre la batteria, vedete? Batteria completamente estratta, consentendo sia di sostituirla rapidamente con una nuova, ad esempio, un utilizzo molto interessante in ambito racing, ma anche e soprattutto di effettuare la carica da remoto. Una bici del genere, a differenza di un e-bike con la batteria fissa, permette la carica anche, che ne so, in furgone, a casa, se in garage non abbiamo la corrente, possiamo portarci a casa la batteria, spinottarla direttamente al carico a batterie e lasciarla caricare. Così come se vogliamo trasportarla, togliamo un bel po' di zavora dalla bici, perché questa batteria qua adesso la sto tenendo in mano, ha un suo bel peso, anche se da 630, quindi leggera, comunque un elemento molto importante nel peso della bici, che senza batteria scende abbondantemente sotto i 20 kg e può essere, ad esempio, trasportata più facilmente su dei portabici. Quindi la soluzione di batteria estraibile ha dei vantaggi oggettivamente pratici, ecco. Da un lato semplifica la vita, soprattutto in fasi di, magari, di manutenzione, di carica, a chi non ha la corrente in garage, però da un punto di vista tecnico è alquanto negativa, perché? Beh, abbiamo detto che riduce la rigidità torsionale della bici, e questo è un fatto estremamente negativo, e che obbliga poi il produttore, per avere un'adeguata rigidità, a fare un telaio più pesante, e anche qui questo è un trend bello negativo. Inoltre, una regola molto semplice, che mi ha insegnato anni di mountain bike, è quella che, quel che non c'è non si rompe. Tutti questi meccanismi di aggancio-sgancio sono soggetti alla rottura, oggettivamente, perché è un qualcosa che si può inceppare col fango, che con le vibrazioni può danneggiarsi, insomma, un qualcosa che si può rompere. Invece, una batteria fissata con due viti, attraverso dei fori del telaio, è un sistema molto più solido e sicuro di ancorarla. Anche da un punto di vista tecnico, molte bici vediamo che, anche qui da noi in officina lo notiamo, che hanno delle batterie che si muovono all'interno del telaio, e lo notiamo subito dalle abrasioni che ci sono sul case esterno della batteria. Quindi, se la batteria è rimovibile, per poter essere estratta, un po' di gioco ce l'ha avere. Se questo gioco è eccessivo, la batteria poi balla. Nei casi peggiori, quando il gioco è eccessivo, gli attacchi non sono ben registrati, si possono anche avere poi problemi di contatti. Quindi, batteria che si stacca non fa ben contatto e fa morire il motore, con conseguente spegnimento o perdita di potenza. Qual è meglio? Beh, a mio giudizio, trovo che la soluzione della batteria interna e fissa al telaio sia migliore. I motivi sono semplici, li ho rincati prima. Non si muove, non ci sono problemi di contatti, non contatti. Rimane bella ferma lì e, se non si allentano le viti, non va da nessuna parte. Pesa meno, quindi ha meno elementi che si possono rompere anche. Quindi è più semplice. E nella semplicità io trovo la giusta direzione delle cose, perché, ripeto, sulla bici deve essere quanto più semplice possibile. Il terzo punto di forza sono le prestazioni migliorate della bici. Avere un cospicuo risparmio di peso sul telaio e avere una migliore rigidità ripagano assolutamente, a mio giudizio, la comodità del poter togliere la batteria. La scelta, quindi, secondo me, va ponderata in questo senso. Se noi vogliamo, cerchiamo una bici ad alte prestazioni, allora orientarci, quindi il nostro obiettivo è in primis la prestazione del mezzo, allora orientarci su una bicicletta con la batteria fissa è sicuramente una scelta giusta, secondo me la scelta migliore. Se invece le prestazioni ci interessano, ma fino a un certo punto, ma ne facciamo un uso un pochettino più tranquillo, ricreativo, e per le nostre esigenze, il poter togliere la batteria e caricarla a casa è un valore aggiunto, non da poco, allora la scelta su un telaio con la batteria estraibile è sicuramente vantaggiosa. Bene, detto ciò vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, vi ricordo che, come sempre, se volete venirmi a trovare, mi trovate qui da Bike Lab, a Beinasco, via Venezia 11, siamo a due passi da Torino, proprio sul confine, mentre se vuoi continuare la visione, qui e qui, trovi altri video correlati. Ti saluto, ciao a tutti, appuntamento a settimana prossima.